Ma è in live adesso ciccio gamer No Che sti No raga 51 secondi fa Gli sono partite le live infinite Qui apri non sta a parlare Non sta a parlare Che giacca c'ha Che strano Buon ferragosto Sono tornati i video sul campo da calcio Mi raccomando supportate alla grande questo video sin da subito Anche perchè è iniziato ufficialmente La settimana illuminata Troverete un video al giorno su tutti i canali della crew Quindi guardate questo video fino alla fine E mi raccomando sotto con i mi piace Anche perchè c'è una sfida particolare Io vi lascio al video ciao Salve a tutti ragazzi e bentornati La settimana illuminata Si pazzesco geniale questa E oggi siamo tornati Con l'illuminati crew E siamo su un campo di calcio E oggi ragazzi Grazie Mike non l'avevo proprio visto Siamo qui per una elastic football Ciao Io ho rinominato così però non so se è veramente così Che faremo in questo video Ho comprato questa che vedete qui Viene utilizzato per l'allenamento Tutti Una rete lastica Una rete lastica Esatto Praticamente ragazzi Se voi Dovete passare la palla E poi rimbalza E dovete tirar volo Dai Ma quanti chiedi like Mi chiede 150.000 Quanti ne fa I 150.000 mi piace E guarisco Mi faccio il tatuaggio sulla cicatrice E però lo scelgo io Mi faccio il tatuaggio sulla cicatrice E però lo scelgo io Dipende la grandezza del taglio Calcolando che mi avranno da qua a qua Fai una figa 8 o 2 ti fai un'acqua E la superficie ce n'è Però 150.000 mi piace Se l'hai mai fatta il tatuaggio E ci sei tatuato Ragazzi che siamo Ciao ragazzi sono il vostro Mike Chosha Ho anche detto cuore matto Io tirerò lì Toria me la dovrà ridare E segnerò Penso Loro stanno lì Al loro rischio e pericolo Questo è difficile Erika Mica è I più belli Comunque so cuciccio Gameri Joker Quelli di calcio Non si è visto niente Mike Non si è visto niente Eh sì Non si è visto Ho fatto Eh non lo devi rifà Non è inutile Che fai a fanculo le persone Piano Frate è più piano Ragazzi la rotola di spawn L'ho vista e non l'ho vista Vola colore Bomba bianca Ragazzi ma è un po' a culi Erika vola Mamma mia regà Veramente Ragazzi sono stormi Detto anche Amato ciciretti Però oggi farò gol per voi Belli gol Al tatuaggio È difficile Concevo la telecamera Amato Vola Bello Uno Bello Beh l'ha capito L'ha capito Che v'è Questo edit così Amato ciciretti Pacciani Se mai Mamma mia E poi ti fa Te fa atteggiamento Da personaggio di Tekken E adesso segnerò A Mike Shosha Mamma mia Spogliati nudo Ragazzi ma non è brasiliano Ma che sei matto Piano Ragazzi Guarda 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 Sì E poi ti fa Ti fa un sì seduto Lui È rangolata questa Che palle frate Guarda Mike Shosha Sicuramente si vede Che è laziale Anche abbastanza Nostalgico Onestamente Sì E' il cappello Oh ci abbiamo Benji Diciamo 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 sicuramente Che Ma Brazzo minava Ma è stato minato Una youtuber league Quando ha perso Ma Piegati Per favore No Piegati Ma che significa Oddio Lo voglio rivedere Fabio Proviamoci Scusate Ma C'ho un dubbio Frate Sei anni fa Non c'era il bar Sei anni fa C'era il bar Por Eeeh Madonna ragazzi Cioè Io dal Scoppio covid In poi Io ho perso Traccia del tempo Sei anni fa C'era il bar Nel calcio Cristo santo No è perché Ha fatto lo stesso gesto Era un po' sus No questo lo odio Qua maglia pure Da Juventus Stava cerchi Eccolo qui Ragazzi Al tiro Kvara Schelia Sicuramente Non farà gol una volta Visto che sai L'ho pagato 45 crediti Al fanta Dai Kvara Segna per nulla Ma che fa Tira più forte Devi tirare sulla rete Sulla rete Ello Tira pezzo di storia Ma guarda sto soga minchia Tira sulla rete Sulla rete Sulla rete Sto me l'hai data Vabbè ti ha detto male No Si vede Questa è bella È il giallo Che mi ascecca Di giampi Ma che fa Stormi Tira Oh 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 Bello Bella Ma tira Ma la scala Quest'anno E basta Basta calcolare tutto Ma è indecente Che piedino Daniele E' un angolo di sburrata Eccolo Eccolo No Oh Bravo 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 Spunna Ciao amici Sono il vostro caro Dexter E oggi prenderò la traversa Ti prego Prendi i jump Il vostro caro Dexter è rimasto sottissimo alle traverse Non si sa che c'ha un problema Se ne ficca il cazzo dentro Secondo tiro Sempre semplice Ma non è La battattiva allegria Più forte Si è scarpetta Marrissima Stai andando a casa di Cristiano Ronaldo Parco Dio E' quello il problema Spicchio Grazie per i quattro Cioè Tanto nel mentre c'è la dpg Che mi sembra di avere Oh Oh Quasi stop di gola Ho capito Ora ho capito Oh Vai Non l'ha capito Spun ex della ragazza dai capelli pio Facciamo entrare Ronaldo In questo corpo Per come Spun è stato Koko Kashi Oh perché io non so queste cose Ma davvero Buu Oh god Dopo la trombosi Non Brazo Non puoi parlare di trombosi A uno che si fa un'operazione al cuore A cuore aperto Cioè non lo puoi fare in un video del genere Buona 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Ho preso eh A rallentatore Traversa Sì ma non devi prendere la traversa Hai un problema fratello Cioè sei rimasto sotto Fate controllare Eh ma non puoi fare un zoom così da nulla Ma sei inguardabile Sei uno schifo Beh raga ma neanche se mi ci impegno In quale delle 40 case di Ronaldo è andata Si scuola E' Non No la tira Porco dio Oh porca merda Non posso dunque video meno male non so che ha detto non ho sentito ragazzi sono il mister maglietta gialla proverò a fare questa challenge che mi ispira tantissimo se stai al tuo sottomarino parcheggiato là in fondo la vuoi spostare? si sto arrivando grazie un attimo ragazzi se vedete poco no ci sta perché poi fanno un riferimento a un sottomarino basta avere più di mille follower per mettersi con pubblico con pubblico sugli spazi Dexter è morto Dexter ha bisogno di assistenza perché questa è la catapulta del male comunque c'è se metti il maestro a fare una roba del genere con 8 anni in più e l'incapacità a giocare a calcio te la fa meglio a proposito del maestro pure in video io non me la godo sai quale non lo abbiamo mai visto in stream quello del maestro proprio sul canale del Marzone quello dei dribbling brazzo crew c'è la tibia cura c'è la tritaccio ma la tua palla allora brazzo non si lascia l'alzo di Langella che dava sofferenze indicibili a Massimo Oddo le vediamo 69-29 ehm oh pira pira un alzano nella nasa mamma mia regà di ginocchi che cosa è con giro con giro la rotula i ginocchi li perdiamo pont deposito è femorale vai 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 oh vado vai vai condensi già abite che veramente tanto tanto non si sa più già più la fonte già la tibia curva internappoli e curva ovunque napoli sembra che ok sono illuminati perché mi stavo preoccupando che ancora non c'era va bene per una camminata strana per il ginocchio di mangiate capaci prendetelo ragazzi sono camper e sto per girare la ruota sono più tetraplegici di me madonna uomo carrozzina non lo puoi proprio dire non lo puoi proprio dirsi non è che se tu hai il passo per dare del disabile alle persone perché stai in carrozzina allora lo puoi fare non aveva non ci piace a noi questo atteggiamento grande uomo carrozzina un grande uomo carrozzina ogni volta che lo becchiamo al games week si parcheggia è una cosa che ti arriva ma tutti in realtà tutti quelli in carrozzina al games week quando ci facciamo le foto ti devono flexare la carrozzina in faccia quindi ti si fermano davanti ti guardano rifanno il sai dai il bombastic sai dai poi ti fanno tutta la manovra per parcheggiare e ti si mettono vicino maledetti si capito ma sono dei maledetti ma uno è uno de sti anni fratello che mi spicchi prendo il stiro dalla carrozzina mi ci metto sopra e scappo vedi poi come te muovi come darsi maestro grazie per i 18 e pippo grazie per i 13 è tornato my man ma chi sta a camper dai fammi tre gol vaffanculo va stronzo io no io no credetaci di più però non ti fermate bravo il 104 è uscito no non è riuscito a balli 104 non può essere uscita sia neanche facendo un bingo grazie per i sei i piedi di un pakistano fermi tutti ho la soluzione questi sono paraplegici come la punzione e tira come prima è ancora qui è come il piede di un pakistano ragazzi ma in tutto questo brazzo che sta facendo tipo delle foto per emporio armani ma guardalo se tagli solamente questo quadratino e lo fai bianco e nero lo puoi vendere tipo a versace ragazzi come in ogni video serve giustamente murdo a portare la situazione ragazzi non capisco il suo linguaggio non avrà manco il posto abbiamo non è razzistissima solo perché del sud mark landers di palermo prende meno proteine frate ma uomo carrozzina c'ha ragione che schifo si vede che non sono incapace di giocare a calcio incapace nemmeno di sapere intrattenere usando un certo tipo di grammatica e linguaggio orribile vabbè orribile vabbè andiamo avanti nella speranza che non ne faccia altra nel caso levo il video e mi da fastidio sta roba grazie la moda di mentre guardo muri che comunque non è poi tanto forte per sapere queste sono ragazzi è una vita di dali cocaine ragazzi se lo sai che ti salta più alto dirà più piano porco dio il piede c'è che muvenza tazzi da contro l'everkusco il tiro del libanese è questo basta basta il piedi del pakistano il tiro del libanese perché il tiro che voleva mike mi ha quasi ucciso ragazzi la catapulta sicura contro la catapulta elastica no no va il tiro della trigger mark della trigger vai mark il tiro della trigger ma la palla è per l'inguine rivediamolo c'era bisogno secondo me di fare questo edit alla franchino il criminale su instagram non beh diciamo ecco proprio rivedendolo poi si vede anche che non lo colpisce sulle palle va proprio a esagerare quella che è una sua scena una sua scena per carità è molto bravo a farla proprio per questo ha avuto anche del successo tante proteine però poi il caso sono a moscio diciamo che camper potete levare questo imbecille da dietro la telecamera continua a insultare sessualmente le persone o dà delle parole orribili hanno un po' ragazzi ve l'ho detto questa è la rete del male quando arriva lo streamer fallito del circo Dexter ha perso un ginocchio lui ha perso la prole e le palle meglio un ginocchio eh vado anche senza testicoli senza palle sei come nella vita ho diventato camper raga Matti grazie per le dieci che succede ooooh anche io bella bella mamma mia ragazzi murri è inguardabile no perchè mi stanno salendo io sono saliti si capito ma vedi c'hai i piedi di una dopo calcio saponato illuminato ma passa bene bello bello ragazzi il tiro dal campo bello bello ragazzi occhio occhio è un modo di dire il romano ocio per dire attento fai caso a qualcosa che sta succedendo ok no perchè se era di nuovo camper allora si poteva cominciare a fare un'attività anche comunque di buttaggio giù dello streamer stesso che è il tiro dal camp shop il tiro del perdonami il tiro del cammello nooo la porta è dritta ce l'ha però è cioè attirà si coordina bene oh bene ragazzi questa sfida è stata vinta da penso gli scarsi ma quale scarsi no no vabbè era molto no te lo doppio ma quale scarsi è così adesso brazzoglio adesso prova a nascondere anche la sua voce porco dio non c'è provare brazzoglio grazie a tutti